Donne in quota. Secondo una ricerca presentata da Federutility in Consiglio regionale, negli ultimi anni in Italia la presenza delle donne nei consigli di amministrazione è aumentata del 6%, ma l'incremento della presenza femminile delle professioni in generale riguarda solo alcuni settori, commercio, marketing e comunicazione, mentre nell'area scientifica è addirittura in calo. In Toscana esistono alcune leggi in materia, compresa quella che impone a Giunta e Consiglio regionali di rispettare quote del 50 e 50 fra donne e uomini nelle nomine che riguardano i CDA di società partecipate. Non è esattamente così, quindi dall'assunzione di principio alla pratica c'è un po' di difficoltà e quello che noi stiamo chiedendo è che invece si faccia uno sforzo in questa direzione, la Banca dei Saperi dovrebbe aiutare. La Banca dei Saperi è un portale che raccoglie curricula di donne che abitano o lavorano in Toscana, ma su questo fronte si sta muovendo anche l'ordine dei commercialisti di Firenze, che sta monitorando la presenza femminile ai vertici delle società toscane partecipate da enti pubblici, segnalando alla Commissione regionale pari opportunità i consigli di amministrazione in cui non sono rispettate le quote rosa di legge. Perché spesso gli incarichi sono politici e spesso si adduce la ragione che non ci sono donne con le qualifiche richieste. Abbiamo delle buone leggi, abbiamo delle leggi che a volte fanno fatica ad essere applicate, quindi c'è bisogno di un cambiamento di rotta e quindi di cultura sul tema della rappresentanza, che sia nei contesti della politica che sia nei contesti ovviamente delle società partecipate. Grazie.